Se ne vanno pure, se ne vanno pure perché lo starter adesso darà il segnale. L'enigmista all'inizio della curva, in leggero vantaggio Pistillo davanti a Ciubullu, il retritone, Gnuaplos, Keplero, Mercuriano, Pimbal, Vizzar. Poco prima dell'ingresso addirittura prosegue in leggero vantaggio Pistillo davanti a Ciubullu, Gnuaplos e il retritone. I cavalli entrano in dirittura con Pistillo in leggero vantaggio lungo la corda, attaccata all'esterno da Ciubullu. A centropista Bridge, Aniap, con più all'interno il retritone e Pimbal, Vizzar. Seguono Keplero, 2.20, sempre in leggero vantaggio Pistillo davanti a Ciubullu, il retritone, Keplero. In vantaggio Pistillo davanti al retritone, Ciubullu. Resiste Pistillo davanti al retritone, Ciubullu e Keplero. Grazie. 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 Grazie.